ben ritrovati amici del portapenne per questo altro appuntamento di questo neonato canale che ha l'ambizione ma molto umile modesta di parlare di quello che riguarda la nostra comune passione quella per lo scrittoio quindi parliamo di strumenti di scrittura senza esclusione alcuna parliamo di supporti quindi taccuini carte e tutto ciò che ci gira intorno parliamo anche d'inchiostri chiaramente oggi vi voglio parlare qui vedete un indizio ce l'avete già un notebook questo è il mio colore proferito su tutti lasciate stare se non vi piace l'arancio immaginatelo di un altro colore è un notebook formato a 5 della vedete leuchtturm 1917 un marchio molto noto tedesco ovviamente che produce tra le altre cose degli ottimi taccuini qui c'è una versione puntinata con carta 80 grammi una carta si adatta alla stilografica ma con qualche limite perché magari la trasparenza della carta non permette o non consiglia l'utilizzo di penne stilografico con il flusso troppo abbondante ve lo voglio dire allora non lo sappiate leuchtturm fa anche una gamma con una carta da 120 grammi al metro quadro quindi molto più adatta e resistente ad inchiostri dal flusso importante magari ci sarà occasione per parlare anche di quello allora perché parlare di questo perché oggi parliamo di un oggetto di scrittura firmato noi turma 1917 e che è guardate un po guarda caso in tinta con questa questa diciamo agenda questo notebook e questo è l'astuccio un astuccio molto minimale la sezione la vedete triangolare e magari riuscite anche intravedere il disegno me lo auguro penso proprio di sì parliamo lo apriamo vedete che qui c'è questa linguetta è molto molto un astuccio molto leggero ma carino ben fatto questo è l'oggetto della nostra chiacchierata tra amici un portamine anzi meglio una matita meccanica la drag rifle che significa in italiano penna rotativa poi vedremo il perché la numero due perché numero due numero due per distinguerla banalmente dalla numero uno che è una penna a sfera ma hanno sostanzialmente lo stesso principio di funzionamento ma prima di parlare tecnicamente di come è fatta di come funziona poi non c'è mai ci sia tantissimo da dire qualche cenno storico e qualche dettaglio vi avvicino un pochino la telecamera in modo tale che possiate apprezzarlo meglio intanto questo è il colore in tedesco lobster che significa aragosta ve lo dicevo prima a me piace l'arancio declinato in tutte le sue sfumature drag rifle significa penna rotativa questo ha a che fare con il suo sistema di azionamento che vedremo tra poco qui vi rimetto l'astucino l'oichturm 1917 è ovviamente una casa storica tedesca e guardate come va a riprendere in questa linea di penne e di matite meccaniche quello che è stato un segno importante dal punto di vista grafico in quel periodo che va dal primo novecento a 1930 circa qui troviamo nella grafica vediamo se avvicinandola lo vedete meglio questa scritta drag rifle che appunto significa penna rotativa il carattere utilizzato è il suterlin chiamato comunemente corsivo tedesco qualche cenno perché questa non è più una grafia molto nota e quindi forse ha fatto proprio bene l'oichturm a riproporla su un oggetto non solo funzionale come questo ma di impatto di design perché c'è una ricerca un ritorno alle origini di quello che è stato un movimento culturale artistico che è andato quasi di pari passo col Bauhaus e anche qui poi vi darò un cenno che riguarda gli strumenti di scrittura ma dicevamo questo carattere suterlin detto corsivo tedesco fu ideato nel 1911 dal berlinese Ludwig Suterlin su diretto incarico del ministero della cultura prussiano poi prese questo tipo di grafia anche altre strade ci furono delle variazioni ma fu adottato sull'onda di un forte impeto identitario fu adottato ufficialmente nei sistemi didattici tedeschi a partire dal 1930 e poi per intuibili motivi fu rimosso addirittura vietato negli anni nei primi anni 40 quindi finì per sparire questa grafia che per un certo periodo fu molto in auge e si prestava particolarmente all'utilizzo con penna inchiostro e calamaio insomma quindi con questi pennini che riuscivano a seguire bene questa inclinazione particolare delle lettere allora Loighton lo dicevo ha rispolverato questa particolarità di questo periodo artistico storico e culturale e la ripropone nei suoi strumenti di scrittura lo ripeto anche sulle penne a sfera detto questo perché drag griffer cioè penna rotativa perché il sistema di avanzamento della mina è basato su questa manopola mentre il fusto è in alluminio la manopola è pur nella sua complessiva leggerezza in ottone massiccio verniciato a contrasto il contrasto nero arancio a mio avviso è uno dei più belli e quindi dicevamo questa manopola che fa avanzare vediamo se riuscite a vederla bene è una cosa positiva io azionando ecco vedete che avanza la faccio avanzare azionando questa manopola quindi do un avanzamento lei rientra questa manopola a molla quindi con questo sistema noi andiamo a far avanzare di uno scatto per volta quando voglio far rientrare la mina non faccio altro che girare la manopola e rimetterla dentro manualmente quindi non è che sia tecnicamente così evoluta ma è tradizionale perché questo è un sistema adottato su oggetti di scrittura degli anni 20 quindi abbiamo per le mani un oggetto che ha avuto una storia che riprende un periodo storico artistico e culturale importante e che ce lo ripropone su uno strumento di qualità qualche breve cenno questa è una penna un corpo penna non grande parliamo di 13 cm quindi tutto sommato rispetto ad una ve ne prendo uno ad una rotring che ancora è senza diciamo la punta cerco di farvela vedere la rotring è un po più lunga decisamente un paio di centimetri perché poi facendo uscire il sistema di protezione della punta diventa ancora più lunga quindi non è una matita meccanica molto grande e anche la sezione di circa un centimetro quindi è leggera e maneggevole va bene per disegnare per prendere rapidi appunti vi dicevo che questa non può essere scelta nelle opzioni la mina da utilizzare è caricata con mini a 0 7 una mina hb scriviamo il portapenne e ci scriviamo leuchttur 1917 stiamo testando la nostra drech griffel numero due per distinguere dalla numero uno che è la penna sfera che non ho da recensire dunque diciamo che questo è sicuramente un bello oggetto ha un prezzo attorno ai 25 27 euro con spedizione se l'ha acquistato in online tenete presente che quanto stiamo dicendo per la penna a sfera la penna sfera offre un'alternativa in più hanno creato una linea chiamata bauhaus che si ispira ovviamente ai colori dominanti nell'arte grafica di piet mondrian che è un artista di spicco di questo movimento culturale e artistico di cui leuchtturm ha fatto anche una serie dedicata di notebook quindi con colorazioni copertina e a contrasto la costa delle pagine che può essere ripresa dalle penne a sfera non dalle matite le matite non sono state create nella linea bauhaus quindi a parità comunque di articolo cambiando il colore costano 4-5 euro in più della linea normale delle penne nel caso dry griffel numero uno quindi se vi interessa una penna a sfera sondate quella che può essere complessivamente l'offerta di leuchtturm 1917 io spero di non avervi annoiato magari di avervi dato uno spunto per arricchire il vostro scrittoio il vostro portapenne con un oggetto carino una nota di demerito ma questa non incide assolutamente sulla valutazione della qualità percepita e oggettiva questa è un'azienda tedesca fa dei buoni prodotti il prezzo è accessibile ma non è regalata sull'astuccio cosa leggiamo andiamolo a vedere insieme l'alturma ve lo ingrandisco disegnato in germania prodotto a taiwan non faccio altri commenti il mondo si divide su questo argomento e senz'altro anche voi avrete i vostri pareri in merito se li vorrete condividere i vostri messaggi saranno sicuramente graditi e meriteranno la debito attenzione e risposte da parte mia vi ringrazio grazie per aver seguito anche questa breve recensione e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti